Il saluto dal Tg della mobilità, rappresentazioni teatrali al Circo Massimo, il calendario delle prove degli spettacoli prosegue nei mesi di luglio e agosto e richiede la modifica della viabilità nelle strade intorno all'arena, come già avvenuto nel mese di giugno. Via dell'Ara Massima di Ercole e Via dei Cerchi tra Portacapena e Piazza Bocca della Verità quindi resteranno chiuse dalle 20 al termine degli spettacoli, sia oggi che nelle serate del 6 e 11 luglio, dal 13 al 16 luglio, il 20, 23 e 24 luglio e dal 28 al 31 luglio e poi nei giorni 1, 3, 5 e 6 agosto. Saranno così deviate le linee di bus 81, 118, 160, 628 e 715. A queste linee nei giorni festivi si aggiungeranno le linee 51, 85 e 87. E tutto appuntamento alla prossima edizione.